Ciao a tutti ragazzi sono Orkverde, in questo video vi farò vedere un nuovissimo glitch per avere la maschera del completo integrale senza indossare la tuta del completo integrale. Per fare questo glitch dovete semplicemente andare su completi, completi integrali e dovete indossare uno dei tre completi integrali o quello luminoso o quello neon o quello elettrico. Quando avrete indossato uno dei tre completi integrali dovete salvarlo fra i completi salvati. Quando avrete salvato il completo tra i completi salvati dovrete fare il glitch del telescopio. Dovete recarvi vicino a un qualsiasi telescopio o quello del vostro appartamento, ufficio, yacht o anche quello che c'è nella spiaggia. Dovete correre verso il telescopio, premere la freccia destra e cercare di allontanarvi dal telescopio con l'analogico sinistro mentre il personaggio sta cercando di guardare il telescopio. A questo punto il personaggio anziché guardare nel telescopio rimarrà baggato a fianco al telescopio o comunque sia vicino al telescopio. A questo punto dovete aprire il menu interazione, dovete andare su stile, accessori, maschere e dovete indossare una qualsiasi maschera. Una che avete già acquistato che vi fa selezionare nel menu accessori su maschere. Quando avrete indossato una qualsiasi maschera nel menu accessori dovrete semplicemente allontanarvi dal telescopio. Quando vi sarete allontanati dal telescopio magicamente comparirà la maschera del completo integrale. Quindi indosserete quella maschera senza la tuta del completo integrale. A questo punto potete salvare il completo tra i completi salvati così com'è oppure potete modificare o meglio cambiare i pantaloni al personaggio. Potete indossare anche dei guanti ma purtroppo non potrete cambiare la parte superiore in quanto appena cercate di sostituire la parte superiore la maschera del completo integrale scomparirà. Dopodiché vi basterà salvare il completo tra i completi salvati e avrete completato il glitch. Niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video sui social network. In descrizione lascerò il link del video per creare il completo della orco verde. Fate quel completo così che quando registrerò qualche video di qualche attività o cazzeggio con voi iscritti mi farebbe davvero piacere vedervi con quel completo. E da orco verde tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!